Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente d'Intorni Show. Come molti di voi sapranno, questa settimana ho trattato dei capodanni e quindi dei vari calendari e proprio per questo mi sono posto una domanda alla fine di questo percorso, diciamo così. Ovvero, visto che tutte le varie popolazioni hanno adottato un calendario diverso, un capodanno diverso a seconda di come e di cosa celebravano e del perché lo celebravano, qual è l'inizio del mio anno? Ovvero, quando... questa è naturalmente una domanda che per quanto mi riguarda alla quale ho già risposto e ne parlerò adesso, eccetera, ma mi interesserebbe sapere magari nei commenti anche da voi quando inizia il vostro anno, perché mi sono accorto che per carità, seppur da un punto di vista tecnico vivendo in Italia, eccetera, il mio anno inizia con il capodanno gregoriano, cioè con il capodanno gregoriano ovvero il primo gennaio, che per essere chiari è oggi, mentre sto registrando il video quindi tanti auguri di buon anno, anche se l'ho già detto nei podcast, eccetera, ma anche in un video quindi perché no? Detto ciò, mi sono accorto che per quanto comunque il primo gennaio sia naturalmente da me associato come capodanno, molto semplicemente, non sia in realtà il momento dell'anno nel quale effettivamente io sento che l'hanno cambiato e diciamo che prima vorrei fare una piccola premessa ovvero spiegandovi anche molto brevemente naturalmente quelli che sono stati i capodanni trattati questa settimana sul sito e nei podcast che tra l'altro potete andarvi a recuperare, sono su YouTube tutti e così poi possiamo parlare ancora meglio di questo anche perché in un certo senso il mio è legato anche all'ultimo capodanno di cui ho parlato che in realtà è un non capodanno ma adesso ci arriviamo questa settimana ho trattato inizialmente del capodanno gregoriano che tra l'altro, per essere chiari, cade il primo gennaio ma quasi per caso, nel senso che come tutti i calendari indoeuropei il calendario originale tendeva a cadere verso la primavera verso le id di marzo, verso 25 marzo, cose di questo tipo ad un certo punto è stato cambiato nel 153, scusate, avanti Cristo perché bisognava leggere un console in tempo c'era una guerra con i lusitani e i berici e quindi bisognava accelerare stato poi Giulio Cesare a stabilire che il primo gennaio invece no, era quella la data di partenza ma comunque anche qui il capodanno che è un dettaglio che mi interessa fu molto vario in realtà per tutta la storia del medioevo e fu molto vario anche per il rinascimento eccetera tanto che fino al calendario gregoriano vero e proprio non esisteva una data vera stabilita nella quale si festeggiava il capodanno ma sostanzialmente ogni popolo, ogni paese, ogni stato sceglieva il suo per lo più associando la motivi religiosi come la Pasqua, come il Natale eccetera ma anche no, tipo in Sardegna si festeggiava a settembre altro capodanno che ho trattato è l'Enkutatash l'Enkutatash è il capodanno etiope ed è una festa per essere chiari che si lega soprattutto all'arrivo delle piogge e quindi la possibilità per gli abitanti di coltivare e non è un caso che sia collegata alla regina di Saba non è un caso che sia collegata al mondo femminile, ai fiori e tutto diciamo ruota attorno a quello il capodanno in quel caso ha una mera funzione tecnica, pratica perché ti dice di fatto quando arrivano le piogge, tutto qui poi ci sarebbe da spiegare la differenza tra calendario lunare e solare ma penso di averla già spiegata in realtà per il Natale detto ciò andiamo avanti e poi ho parlato del DIY che tra l'altro dovrebbe uscire oggi quando sto registrando il video ovvero mercoledì andatevelo a recuperare perché è il più bello e il più affascinante anche il DIY in realtà è legato a una cosa molto pratica ovvero il fatto che in quel periodo dell'anno in India smette di piovere smette dei monsoni e quindi si può celebrare effettivamente una festa delle luci sia perché le nubi vanno via e quindi le luci sono più visibili e sia perché sostanzialmente tu puoi proprio uscire di casa puoi emettere la tua lampada spero non dia fastidio la campagna non ci posso fare niente registro degli orari sbagliati vabbè, detto ciò il Diwali poi si associa infatti alla tradizione di Rama che appunto risale dallo Sri Lanka ritorna a casa sua Rama è una figura comunque semidivina dovrebbe essere un avatar non mi ricordo se di Shiva o di Krishna ma penso di Shiva detto ciò comunque è una festa che appunto si lega fortissimamente a quel momento l'istorico a il monsoni eccetera l'altra festa di cui ho parlato e che uscirà giovedì è invece il capodanno vengalese il Pahela Boishach che è molto particolare in realtà perché è l'unica alla quale anche dopo non è stata associata nessuna motivazione speciale non c'è una divinità che è nata non c'è un re che ha fatto qualcosa non c'è niente è semplicemente puro e semplice capodanno ma la roba fantastica di quel capodanno è che nel corso del tempo era nato per prendere le tasse nella miglior maniera visto che il calendario solare è più adatto all'agricoltura rispetto a quello lunare che non è adatto per essere che non lo è ma poi è entrato nell'ipica diciamo popolare proprio per quello che ha rappresentato per il popolo mingalese storia veramente molto interessante affascinante e poi alla fine c'era lo Yen Ayer che è il più stupido per essere chiari perché il capodanno a Masier è sostanzialmente il capodanno Giuliano ma con l'unica unica unica differenza che invece che mettere un giorno in più a febbraio lo mettono a fine dell'anno e poi è identico non cambia niente vabbè detto ciò questo mi ha portato a fare poi un paragone con un altro calendario che io come buona parte dei credenti del mondo in generale seguono ovvero il calendario islamico che è l'unico calendario al mondo con i suoi pregi difetti ma è l'unico che è un calendario effettivamente lunare e basta questo vuol dire che ogni anno il periodo cambia eccetera ma arriviamo a noi io prima ho detto che il mio anno di fatto non inizia con il primo gennaio e quindi quando inizia io ne ho due di date non vi dirò esattamente nessuna di queste due una perché è personale quindi vi dico più o meno in che periodo cade e l'altra invece è legata appunto all'islam è legata all'armadan e quindi è variabile ma mi interessa approfondirla un po' tutte e due la prima ovvero il mio compleanno che cade a settembre per me rappresenta di fatto è come fosse il calendario solare no? cioè da quando tu nasci comunque vedi x giorni di sole vedi x giorni di luna eccetera e ogni volta che tu compi un anno dal mio punto di vista non è che cambiano le cose intorno a te ma ti serve per provare un po' a vedere quello che pensavi di raggiungere in quell'età e quello che effettivamente sei riuscito a raggiungere in quell'età quindi da quel punto di vista per me è molto importante e poi francamente cadendo anche a settembre con una stagione così poetica, così romantica da quel punto di vista di quelle foglie che cadono eccetera con l'inverno che arriva è perfetto cioè dal mio punto di vista effettivamente se potesse esserci un capodanno a fine settembre sarebbe molto bello e poi naturalmente se uno studente è andato mai a scuola a prescindere l'anno inizia a settembre e non inizia a gennaio a gennaio è la metà dell'anno quindi anche da quel punto di vista lì diciamo le due cose sono fuse nel corso del tempo mi hanno portato a immaginare il mio calendario solare con la prima data, con il mio compleanno appunto e penso che per molti di voi sia così e sarebbe una cosa positiva perché vuol dire che partite diciamo con mettere voi stessi e non il tempo fra virgolette il tempo oggettivo, il tempo di altri al centro del mondo che poi il calendario gregoriano schifo non fa è specifico però l'avere una data propria interna dove effettivamente senti che qualcosa cambia di più rispetto al passato secondo me non so se è utile o meno ma averlo ti aiuta a riflettere tanto e detto ciò la seconda data è quella che è più legata allo spirito e che è variabile come dicevo perché cade di fatto per me sia fra la fine del Ramadan quindi con l'Aid che è la festa di interruzione del digiuno eccetera Eid Ramadan scusate sia con la festa dell'Aid Ramadan sia con la festa dell'Aid Al-Adhan dico questo anche se non tutti magari lo condivideranno perché dal mio punto di vista religioso essendo le uniche due feste vere dell'Islam ed essendo almeno per il mondo sunnita ed essendo comunque abbastanza vicine alla fine se non mi sbaglio è un mesetto comunque non tanto di più due mesi dai due una cosa così adesso non ricordo esattamente comunque per essere chiari io ho finito il Ramadan quest'anno a giugno e questa festa era tipo i primi di agosto quindi sarà un mese di mezzo una cosa simile però dopo quella festa lì non so come dire la spiritualità almeno mia cambia ma non perché chissà prima hai pregato tanto ma oh sciambola droga sesso rock and roll se capitano per carità io devo essere resto schifo non è che mi fanno però detto ciò è una questione diversa è più che altro che tu durante il Ramadan sia fisicamente sia psicologicamente onestamente metti tanto e le tue giornate cambiano il tuo modo di fare cambia e in quel mese lì e lo so che quelli che mi sentono aggredi dicono no ma sei pazzi io mai farò le vacanze lì però bisognerebbe farle perché è un mese talmente particolare talmente diverso che dal mio punto di vista per essere goduto appieno non devi fare niente devi goderti tutti i momenti perché è un mese che ti spinge a fare quello eccetera però naturalmente è come fare un'enorme festa dello spirito più è del corpo purtroppo purtroppo bellissimo mese da qui a due mesi circa ok quindi quando tu poi lo finisci in ogni maniera in cui lo finisci sia che tu lo finisca bene sia che tu lo finisca male io ho avuto il Ramadan che sono finiti meglio il Ramadan che sono finiti peggio per essere chiari però è lì che sicuramente inizia l'anno da tanti punti di vista perché proprio tu sei hai dato tutto quello che avevi almeno questo si spera in quel mese lì e diciamo che quella parte che c'è fra una festa e l'altra almeno a me personalmente serve un po' per riequilibrare tutto e non dico tornare come quello di prima del Ramadan perché allora vuol dire che l'hai mezzo buttato però a trovare un equilibrio diciamo più veritiero più corretto fra le due cose anche perché questa è una cosa che molti di voi che magari non l'hanno fatto non immaginano ma quando tu fai Ramadan hai tutta una serie di ore in più poi io tipo che ho diciamo sono fumatore eccetera sono ore di fatto di stress perché dove tu sei abituato a fumare però non puoi perché naturalmente non puoi rovinare il giorno però diciamo che per una persona normale senza problemi di questo tipo sono effettivamente delle ore in più quindi fai anche fatica proprio a rimodellare il tuo tempo su dei orari che siano plausibili molto banalmente i primi giorni ti devi sforzare a mangiare al pranzo perché non hai fame non sei più abituato in un mese il corpo cambia detto ciò questa era più o meno la mia riflessione mi interessa sapere quindi il vostro anno quando inizia come funziona magari se volete scrivermelo se magari seguite proprio una fede diversa e quella fede magari non l'ho trattata l'ho trattata in maniera superficiale e un calendario molto particolare che magari può interessare scrivete perché mi interessa moltissimo penso che settimana prossima mi dedicherò essenzialmente a dei video se riesco e di fatto qualcosa comunque più di leggero più di mio un po' se qualcuno segue i podcast a presente come quando sono andato in Marocco questo perché vorrei dedicarmi veramente al 100% settimana prossima al progetto del Patreon vorrei farlo veramente fatto bene vorrei avviarlo nella migliore maniera possibile vorrei fare un prodotto che a voi piaccia soddisfi e che stimoli non per un mero guadagno mio quello certo naturalmente appunto a campare quello è ovvio però ancora di più mi interessa fare qualcosa che sia di bello e che vi rimanga e che vi possa magari dare un arricchimento vero qualcosa in più magari degli spunti più che un contenuto in sé lui non lo so io naturalmente spero tutto però almeno quello almeno avere darvi quasi il guizzo per andare a scoprire voi cose nuove o comunque fare delle esperienze magari molti di voi non lo sanno perché non ricordo in realtà se l'ho detto nello scorso video i Patreon e qui apro e qui chiudo la parentesi saranno legati o alla figura di Ibn Battuta o alla figura di Ibn Arabi questo perché voglio fare come tematica il viaggio e sicuramente come tappe ci saranno il Marocco l'Algeria e l'Egitto e l'Arabia Saudita che dovrebbe cadere tra l'altro proprio nel mese di Ramadan farò di tutto per farlo cadere anche perché sennò dovevo parlare due volte dell'Arabia Saudita o Islam e Arabia Saudita quindi adesso salutiamo un attimo detto ciò noi ci salutiamo e ci vediamo alla prossima seguireci su Facebook Instagram YouTube Spotify sul nostro sito su Twitter e su Telegram